E' positivo anche al secondo tampone il paziente trasferito due giorni fa dalla RSA della clinica Santa Barbara a malattie infettive dell'ospedale. Si tratta di un nisce mese ai 75 anni ricoverato presso la residenza sanitaria assistita da circa 90 giorni dopo essere stato stabilizzato per conseguenze da ictus dalla rianimazione di Caltanissetta dove raggiunto in urgenza tramite l'isoccorso del servizio 118. L'uomo totalmente asintomatico è stato sottoposto a tampone nell'ambito di uno screening avviato dalla clinica dopo che un'infermiera poi risultata negativa al covid aveva accusato una lieve alterazione della temperatura. Come stabilito dal protocollo di sicurezza sono scattati controlli per tutti e l'anziano è risultato positivo. La sera di giovedì l'uomo è stato poi prelevato dagli operatori del 118 intorno alle 23.30 e è stato trasportato al Vittorio Emanuele dove adesso è ricoverato al reparto di malattie infettive. Questa mattina ci siamo recati in clinica per capire cosa sia successo nelle ultime frenetiche ore. Dopo essere stati sottoposti ai rigidi controlli previsti al protocollo abbiamo incontrato il dottore Emanuele Gerrizzo, direttore della casa di cura di Macchitella. Secondo il direttore la correttezza dei protocolli ha consentito di circoscrivere immediatamente il caso evitando una potenziale diffusione. Questo paziente attualmente è asintomatico, è ricoverato quindi ho dovuto togliere dal sistema l'eventuale serbatoio quindi è stato trasferito in un istituto dove c'è un setting assistenziale adeguato che è appunto il reparto retto dalla dottoressa Pace, sto parlando della malattia infettiva e del reparto di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele dove appunto sono organizzati meglio per questo tipo di patologia. Quindi noi non siamo stati allarmati da questo fatto, siamo stati allarmati dal fatto che una nostra dipendente ha scritto che una mattina aveva 37 di temperatura. È un dato ragazzi come dire molto sottile però è bastato questo per far partire l'indagine sia da Caltanissetta che all'interno della struttura e quando ci siamo messi in moto abbiamo voluto mappare tutta l'RSA. Quindi come dire nell'essere iperattenti, meno male, abbiamo trovato che questo paziente aveva il tampone positivo. Nelle ultime ore sono stati effettuati 72 tamponi tra operatori e ospiti dell'RSA, tutti fortunatamente negativi. Negativo anche il tampone della moglie del paziente, il che testimonia come il virus non abbia avuto il tempo di diffondersi. Dottore questo è il test specifico, il test sierologico che è stato effettuato al paziente prima che venisse trasportato alla Vittorio Emanuele. E che cosa emerge? Emerge, voi vedete per esempio una riga sulla C che significa controllo, quindi il test ha funzionato. Se fosse stata positiva la G vuol dire che il paziente come vi dicevo prima ha una positività alle immunoglobuline G quindi ha raggiunto un'immunità considerato che le M sono negative. Se invece fossero state positive le M e le G negative vuol dire che il paziente ha l'infezione in atto quindi le immunoglobuline M sono positive non si è ancora immunizzato. Il fatto che il test sierologico sia negativo prova che comunque è stato contaminato al virus nell'arco di meno di una settimana. Esattamente, questa è la nostra spiegazione. Ma come si è contagiato un paziente ricoverato in struttura da oltre tre mesi senza alcun contatto con l'esterno? Il dottor Gerrizzo lo spiega così. La struttura non può evitare, per esempio, perché se no siamo sotto un regime di carcerazione, non può evitare che se viene un parente e porta un pigiama un po' più leggero, un po' più estivo, visto che le temperature sono cambiate e il paziente si trova ricoverato qui da oltre due mesi e mezzo, se porta un indumento noi non possiamo impedire che questo indumento arrivi con i nostri operatori, perché l'indumento viene bloccato all'accesso della casa dell'RSA e poi viene trasferito tramite i nostri operatori al letto dell'ammalato. Quindi questo potrebbe essere una porta attraverso il quale il virus può essere entrato. Non si può negare che se un operatore che tutti i giorni esce e va a casa, va a fare la propria vita nella sua giacca o piuttosto che nelle sue mani, piuttosto che nel suo cavo rofaringio ha avuto, ha contratto un virus, noi non possiamo negare che questo possa essere successo, l'abbiamo mappato. Al momento i nostri operatori sono tutti negativi, parlo degli operatori, ma sto estendendo il controllo anche alla ditta delle pulizie, anche ad altre figure che sono accessorie agli operatori della sanità vera e propria dell'RSA. Nelle prossime ore poi una ditta specializzata nella sanificazione e nell'individuazione di possibili focolai non umani interverrà su tutti i locali della struttura. Pare che questo virus viva all'interno delle cose, quindi di un divano per esempio, piuttosto che di un indumento, per diversi giorni. Quindi adesso con questa ditta, dopo aver mappato il personale, andremo a individuare se c'è un eventuale serbatoio in RSA, un materasso. Quindi il paziente ha dormito su un materasso, quel materasso potrebbe essere un serbatoio. Quindi dopo averlo individuato, questa ditta è specializzata per questo, metteremo fuori dal sistema anche l'eventuale serbatoio in modo tale da rimettere in assoluta sicurezza la RSA.